Vicenza, ufficialmente richiedente asilo, di fatto perfettamente integrato in quella che ormai è la micro criminalità della città, traspaccio e piccoli furti. Un immigrato ganese, 23enne, è stato pizzicato dagli agenti delle volanti al parco Fornaci, in città, mentre dissotterrava della sostanza stupefacente. Vistosi scoperto l'immigrato asserato alla fuga, una volta raggiunto dagli agenti, gli hanno trovato 28 grammi di marijuana e un cellulare sottratto due giorni prima ad una chioggiotta a Vicenza con il banco del pesce. Il ganese è stato denunciato per esistenza pubblico ufficiale e ricettazione.